Buonasera, oggi è stata una giornata molto importante per l'Italia, per il Governo italiano, per i cittadini italiani e soprattutto per le famiglie delle vittime del Ponte Morano. Oggi, grazie all'azione del Governo, abbiamo estromesso il benetton dalla gestione delle nostre autostrade, di tutte le migliaia di chilometri che gestivano l'Italia. Io mi ricordo ancora quando la sera del 14 agosto del 2018, io ero Vice Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Infrastruttura era il Ministro Danilo Toninelli, subito dopo il cloro del Ponte Morandi ci sentimo a telefono. Avemo una lunga conversazione in cui pianificammo, per la volontà del Movimento 5 Stelle nell'allora dove erano già loro verde, la volontà di togliere la gestione delle nostre autostrade del Benetton, perché avevano fatto crollare quel ponte, era evidente sin da subito che non avevano fatto la manutenzione adeguata e soprattutto in quei giorni in cui eravamo decine e decine di morti e famiglie disperate non chiesero neanche scusa. Se ve lo ricordate ci sono voluti i giorni dal crollo a quando abbiamo sentito scusa. Devo dire che ci sono voluti i giorni anche per leggere Benetton sui giornali. Oggi, dopo un Consiglio dei Ministri che abbiamo avuto stanotte e finito alle 5, alle 5 e mezza stamattina, abbiamo con un'operazione di mercato, quindi non con la reloca, con un'operazione di mercato, ho ricevuto una lettera dal Benetton, dalla proprietà riconducibile del Benetton via Autostrade per l'Italia che dice che sono disponibili a lasciare l'azionariato della società e a far entrare lo Stato. Ora, che significa che entra lo Stato? Significa che Cassa Depositi e Prestiti, che è una delle aziende dello Stato più importanti che abbiamo, entrerà nel capitale di Autostrade per l'Italia, non darà i soldi al Benetton, entrerà con un aumento di capitale e comincerà a gestire la società che gestisce le nostre autostrade, lo farà anche con altri azionisti. È il frutto di un negoziato, un negoziato che è partito dalla posizione della reloca e poi ha prodotto a questa soluzione. Una soluzione, voglio dirlo che con molta chiarezza, che è solo all'inizio, non siamo arrivati al punto che ci eravamo prefissati. Voglio dirvelo perché io sono contento di un risultato molto positivo il fatto che abbiamo ottenuto che i Benetton siano estromessi dalla gestione delle autostrade. Ma adesso la cosa più importante che dobbiamo fare, dobbiamo cominciare a vigilare, continuare a vigilare con il Movimento 5 Stelle, come governo, è che i pedaggi autostradali devono calare. Perché un cittadino oggi mi dice, ok, benissimo che avete stromesso il Benetton, ma adesso vogliamo vedere che cosa cambia nella gestione dello Stato delle autostrade. I pedaggi devono calare, bisogna assicurare più investimenti nella sicurezza, che è quello che non avevano fatto i Benettoni, infatti è crollato il Ponte Morandi, e allo stesso tempo dobbiamo anche innovare, e quindi investimenti nell'innovazione. E io su questo credo che possiamo essere fiduciosi, perché Cassa Depositi e Prestiti ha un grande manager che è Fabrizio Palermo, un giovane manager che ha una visione industriale della gestione di Cassa Depositi e Prestiti e non una gestione speculativa finanziaria. Lo dico non perché avere una visione finanziaria si è sbagliato, lo dico perché se lo Stato entra in Aspi, se lo Stato entra in autostrade per l'Italia, è perché deve migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani. Altrimenti non sarà servito a nulla, altrimenti quello che stiamo dicendo di estromettere il Benettono per sostituirlo con un altro soggetto che dopo che ha fatto la quotazione di mercato dell'autostrade per l'Italia continuerà soltanto a preoccuparsi del valore in borsa della società, noi non avremo risolto nulla e i cittadini ci chiederanno tra un po' ma che cosa è cambiato? A questo si aggiunge un tema che è quello intorno a cui ruota tutta questa storia, il crollo del ponte Morandi, un abbraccio alle famiglie delle vittime. Io mi ricordo che noi avevamo fatto due promesse ai familiari delle vittime. La prima è che il ponte non sarebbe stato ricostruito da il Benettono e così è stato. Fummo noi a proporre che il ponte dovesse essere ricostruito da una società di Stato e infatti Fincantieri insieme a WeBuild hanno ricostruito il ponte in tempi record. L'hanno fatto con un modello di decreto che fu attaccato da tutte le parti e che ha retto anche alla Corte Costituzionale in questi giorni. E ancora una volta i miei complimenti vanno a Daniel Toninelli, al Presidente Conte perché abbiamo lavorato insieme a lui in tutti questi anni per ottenere questo risultato e va anche al Ministro dei Trasporti attuali Paolo De Micheli, a tutto il Consiglio dei Ministri, al Governo che è riuscito ad ottenere questo risultato. Un risultato che era la seconda promessa. Avevamo promesso di non farlo ricostruire il Benettono, avevamo promesso alle famiglie delle vittime che il Benettono non avrebbero più gestito che le nostre altre strade. Io non voglio usare il tono trionfalistici, però sono qui a dirvi che abbiamo mantenuto un'altra promessa e di questo dobbiamo essere contenti. Dobbiamo essere contenti perché arricchisce la credibilità dello Stato. E dedico questo Consiglio dei Ministri di stanotte veramente alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi. Ho citato qualche giorno fa su Facebook in un post il fatto che in questi giorni avevo visto poche settimane fa, avevo rivisto e sentito la moglie di Gennaro Sarnataro, uno dei autotrasportatori che attraversando il ponte è morto, perché il ponte è crollato mentre lui c'era sopra col suo camion. Lasciava due figli, aveva credo 43 anni, era quindi un autotrasportatore che faceva il suo lavoro nel bel mezzo di agosto, ricordo il 14 agosto del 2018. A lui e a tutte le vittime va il mio più grande ricordo e a loro dedichiamo anche questa seconda promessa mantenuta. Ora c'è da mettersi al lavoro, c'è da mettersi al lavoro perché la revoca non è esclusa. Qualcuno dirà ma lei era per la revoca? Io sono per la revoca se non si ottiene il risultato che Aspi abbassa le tariffe autostradali, la nuova Aspi con lo Stato dentro, che fa più investimenti, che guarda la mobilità del futuro, perché per uno Stato gestire le autostrade significa avere una visione strategica di che cos'è la mobilità del futuro adeguando le autostrade, le proprie infrastrutture viarie alla mobilità del futuro e che soprattutto assicuri la sicurezza ai propri cittadini. È stato un lungo percorso, un lungo percorso legislativo, poi un lungo percorso amministrativo e in questo io non posso che dirvi che sono orgoglioso di essere nel Movimento 5 Stelle. E ce lo dobbiamo dire, questo non vuol dire che non abbiamo lavorato bene con le altre forze politiche, io lo dico chiaramente, abbiamo lavorato benissimo con il Partito Democratico nell'ottenere questo risultato, abbiamo lavorato benissimo a livello di governo, però questo tema l'abbiamo posto noi e questo tema non l'abbiamo posto solo dopo il prologo del Ponte Morandi. Io ricordo nostri senatori e deputati che nei 5 anni all'opposizione già ponevano il tema delle concessioni autostradali, perché al di là del prologo del Ponte Morandi ricordiamoci che questi erano contratti di cui non può beneficiare nessuna impresa italiana, erano contratti blindati che ti assicuravano rendite decennali a oltre il 7% di guadagno fisso e anche se lo Stato te le toglieva ti doveva dare tutti i soldi degli anni per cui era stato firmato il contratto. Sono state fatte cose ignobili e se non ci siamo riusciti col vecchio governo, è perché nel vecchio governo con la Lega abbiamo avuto enormi difficoltà anche solo a fare il passo di minacciare la revoca per poi nel negoziato ottenere l'uscita dei benettoni. In questo governo ce l'abbiamo fatto e questo secondo me è un tema che attiene a tutta la questione delle nostre infrastrutture strategiche. Le infrastrutture strategiche le deve gestire lo Stato, che non significa parlare di nazionalizzazione, di appropriazione proletaria o di altre cose. Le infrastrutture strategiche in un paese significa possedere quelle infrastrutture che garantiscono ai cittadini di poter soddisfare i propri interessi primari. Il bene comune che cos'è? Il bene comune è un bene necessario alla sopravvivenza dell'individuo. È sempre stato nel nostro spirito di movimento, il bene comune. E le infrastrutture sono uno di quei beni necessari alla sopravvivenza dell'individuo. Questo non vuol dire che non ci deve essere mercato, anzi il mercato va spinto, incoraggiato, va implementato, ma ci sono delle infrastrutture che è meglio che le gestisca lo Stato perché altrimenti, se si piegano alle logiche del business, succede quello che è successo col Ponte Morandi, che per risparmiare cronano i conti. Tutto questo ve lo dico, è sentivo il bisogno anche di fare questa dieta, perché era un po' di tempo che non ci parlavamo, stiamo lavorando tantissimo, stiamo lavorando su dei dossier anche molto complicati come questo e è stato anche un bene. Aver parlato poco in tutti questi mesi di questo obiettivo per poi poterlo ottenere e dirvi di averlo ottenuto. Nei prossimi giorni quello che succederà è che il governo ieri sera in Consiglio dei Ministri ha dato il mandato a Cassa Depositi e Prestiti di iniziare il negoziato di entrata dentro l'autostrada e dell'uscita dei benettoni da autostrada. Noi speriamo di poter vedere subito buoni risultati, il prima possibile, buoni risultati sulle tariffe autostradali, magari delle aree della rete autostradale in cui non c'è bisogno di pagare così tanto a casello, buoni risultati sulla messa in sicurezza delle infrastrutture, che poi significa investimenti, significa lavoro per tante persone, significa cantieri e buoni risultati sul tema anche dell'innovazione. Un tema importantissimo perché innovazione nella mobilità è il futuro che abbiamo davanti e quando si fanno questi progetti bisogna tenerne a conto. In questi mesi abbiamo fatto delle norme importanti per ottenere questo risultato, un'altra è stata la modifica a mille proroghe e su questo il Vice Ministro Giancarlo Cancelleri ci ha lavorato tantissimo, la modifica che ha permesso di cominciare a parlare di revoca, anche se poi abbiamo fatto un'operazione di mercato. Io vi assicuro che oggi parlo a voi sul tema delle autostrade non facendomi prendere da facili entusiasmi, non dicendovi che è tutto semplice, dicendovi che c'è ancora da combattere e dobbiamo ottenere il risultato finale. Il risultato finale non è l'entrata dello Stato nella gestione di ASC, quello è lo strumento, quello è il veicolo. Il risultato finale è farvi percepire il cambiamento, sia nella qualità delle infrastrutture che usate ogni giorno e sia nel prezzo e quindi come impatta sulle vostre tasche.